Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Powerplay, episodio 11, abbiamo saltato anche ieri l'episodio, ero stanchissimo e addirittura ho portato zero video sul canale, mi dispiace e ritorniamo cercando di essere abbastanza costanti e soprattutto carichi, speriamo che non mi stancherò più detto ciò siamo con Narcos, ciao Narcos ciao cerchiamo di arrivare per questo undicesimo episodio a 1100 like, dai, è abbordabile e andiamo di Botara, Botara quindi io mi aspetto The Bay Totem da parte di Narcos in modo da fare Uga 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 e distruggere gli avversari, allora loro hanno una buonissima, noi abbiamo il primo, perché? metti il toto, metti il toto ti aiuto a prendere la prima stella vabbè ma il primo è buono ma ora lui sta andando, aiutalo, aiutalo te intanto mi faccio la ulti ok, spazzino ok perché siete stati spottati capisco perché nel primo provi a lasciare senza la ulti vai 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 ma quello salta, quello salta te ti dovresti allontanare da me però fra non devo mettere la prima perché non ti allontani da me? stai giocando randomicamente fra ma... eh sì, stai giocando proprio randomicamente io non sto giocando in maniera buona randomicamente anche lui ma ma te stai continuando a morire non stai facendo letteralmente nulla io non me ne vanterei niente, nel primo mi deve stare attaccato stai allontani da me vai, via va sta testa quadra bah, Michele anche te vabbè pure sto il primo dove ha volato io non ho parole ma sti casi umani li devo avere tutti io ce sto facendo tutto io voi state continuando a morire cosa ridi? testa quadra oh sì, ho durato male ah prego dopo averti aiutato per un'ora in una verifica prego cosa ridi? dai fammi cambiare dai mettiti a me no no e no io voglio usare piperti no non me ne frega nulla addio beh fai schifo come fai a fare così schifo con Bo ma perchè mi devi fare usare Bo ma perchè ti devi suicidare ogni due per tre? vabbè quella di prima la giocattavo quasi male apposta ah prego ti ripeto grazie per l'ora sprecata nella tua verifica così mi ripaghi vero? dai vai che mi hai pure fatto svegliare alle mattine ti concentro ti concentro ti concentro ti concentro eh bello vedo come ti concentro che non hai neanche messo il totem si si ti concentro ah ottima posizione fra la vuoi smettere? ti giuro mi stai facendo tiltare però va bene scherzare e ridere però vorrei concentrarmi un minimo e te giochi così boh così mezzola aiutatemi aiutatemi ma vabbè questi vanno a notare dovrebbe essere abbastanza easy totem dietro perchè lo metti così esposti fra io non ti capisco sai che il tuo ultimo dovrebbe essere il più protetto possibile e te lo esponi ah neanche l'altro abogante è stupido ok easy easy win tu debottazzi vai metti il ultimo ben vinto metti la via dietro ottimo no ma non è più totem ora mamma mia mi chiede ragazzi worst bow in this fucking game ma guarda mi stai buono si si mi stai buono uno non mi sto concentrando la prossima che concentro ah si l'hai detto anche prima di iniziare questo lo sai e vabbè prima volentemente l'ho stato buono occhio non mi dire che muore quella shelly almeno puntiamo a fare i cosi stellari non morire nemmeno te ma che ha molto rifregato i cosi stellari ma che ne so dei punti in più per fine season magari ci avviciniamo a qualcosa sono i star player molto devi stare a proposito quanti giorni mancano alla fine della season ah oggi è l'ultimo giorno che schifo se quella non fosse stata persa fra sarei arrivato a 1150 ma come cavolo hai fatto io sono a 600 eh sarei arrivato a mille che ve lo dici? 1150 in una season così buttata? si allora mi sarei concentrato di più io che cavolo ne sapevo metti sto totem o anche ora ti devi dimenticare metti il totem l'ho messo stai zitto prendo anche la stellina l'ho messo l'ho messo l'ho messo l'ho messo l'ho messo l'ho messo poi che abbiamo una shelly fra sembra di essere lo snake prairie della beta madonna mia ci sei ridi stefale snake prairie della beta ecco la bella per le due morti l'ho messo l'ho messo l'ho messo sarà la ulti stai separato facciamo una cosa vai al mio 3 attacchiamo 3 2 1 g2 ua 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 dai fra quella shelly anche te perchè ti sei suicidato faccio ta ah ok che cazzo oh cazzo dove va quella guarda va dritto per dritto per guardala fra guardala oh wow basti non deve morire nessuno vai via te vai via te tara la ulti eh mi uso la mia visione quando lei la usa fra ti giuro giaco giacobo mix non mi convince per nulla dai io l'ho già visto morto per me è già morto fra giacobo mix non mi convince per nulla che bello vediamo cosa fa ora che la ulti secondo me vuole correre dritto per tutto per usarla penso che è un giocatore esperto della beta perchè non sa scegliere la gameplay ma si si la usa proprio bene poi guarda non mi piace né scarale di mine c'è una popolante magari vai easy easy non deve morire nessuno oh oh giacobo giacobo non mi scherzare giacobo non mi scherzare giacobo easy easy ok ok adesso a gg andiamo con la partita fast di brawl ball e gg per questa season ragazzi torneriamo più forti la prossima brawl ball 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 oh non riesco a cliccare su ok non me ne vanterei non me ne sto vantando eh mortis io vado di mortis no fallo usare a me mortis ma vai a casa ma vai a cagare ma no grazie bastard dai anche qua stai bloccato 5 su 6 mezz'ora matchmaking di murder fra lo fa davvero ma oh wow io non ho parole se non start anche quella partita prima ragazzi sono stati bloccati in mezz'ora di matchmaking su 5 su 6 no eh no no non mi fai lo scherzo anche stavolta eh e siamo pure bassi oi siamo fuori da matchmaking fra mica 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 si sta lavando i denti cosa sta facendo mica non ti sentiamo più narcos vabbè rip narcos cosa sta facendo si starà lavando i denti 100-100 ragazzi ok ci sono no mi aveva chiesto di entrare in lezione ma lol ok siamo contro il gx nico fra vuoi perdere il gx nico? no fra io sto traiettando ah ma questo è il tbr c'è il berus si vabbè oh ragazzi fate sta bea oh fra quella bea per favore toccami ma sta bea sta giocando su eh ma dovresti fargli male a te con Sandy fra la trisciotti la trisciotti la trisciotti Dio bel ma c'è pure uno di vita ma dai mamma mia vabbè te c'è la sandstorm ora eh no no vabbè sono tutti morti fra quindi così dai che non posso fare è la mia Sandy ah si si mi ringrazio la tua shitstorm per scherzo basta fare la bea fra questa bea è vinta easy ma dai allora ci sendi lì e bea a sinistra te sei rimorto fra te neanche ti puoi sparare che io ti trovo già morto guarda 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 spawni e muori ma secondo te puoi andare dritto per dritto fra o ti cercherai di evitare un minimo i colpi no te spawni e vai dritto per dritto fra ma perchè devo essere sempre con tutta me a parte tiratelo via dai veloce andate a segnare brava questa qua no 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 Sì